Presentato questa mattina il progetto sperimentale Taxi Amico, dedicato ai giovani ravennati dai 16 ai 25 anni. Per la prima volta il Comune di Ravenna, in collaborazione con la cooperativa Radio Taxi, e grazie al finanziamento, al contributo importante di alcune realtà private, in primis il consorzio Ciro Menotti, che regala alla città in occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione un contributo importante per la realizzazione di questo progetto, parte il Taxi Amico. Che cos'è il Taxi Amico? Il Taxi Amico è un servizio di trasporto calmierato, con una tariffa agevolata, rivolta ai ragazzi che studiano, lavorano o che semplicemente abitano a Ravenna, ragazzi dai 16 ai 25 anni, che potranno partire da Piazza dei Caduti, quindi centro storico di Ravenna, e raggiungere Marina di Ravenna, via Ciro Menotti, angolo cuccomeraio, per capirci, in tutta sicurezza e in taxi. Il prezzo calmierato prevede che la tratta costi 20 euro, che il voucher con il prezzo di 20 euro si acquisti direttamente dalla cooperativa Radio Taxi, il che significa che organizzandosi in quattro un ragazzo di Ravenna, caricando altri tre amici, pagherà una tratta per andare a Marina di Ravenna solo 5 euro e pagherà sempre solo 5 euro, anche la tratta per tornare in totale e piena sicurezza in taxi a casa dopo aver trascorso una notte di divertimento a Marina. Prezzo calmierato, orario flessibile, perché a differenza del servizio di navetto che funziona, che però copre solo fino alle due di notte, il servizio di Taxi Amico arriva fino alle 4 del mattino, quindi consente proprio ai giovani ramennati di stare, permanere nella località, fino a mattina inoltrata. È una sperimentazione, raccoglieremo le critiche, le adesioni, le proposte eventuali alternative, ci tengo a specificare che non sono impiegati contributi pubblici per la realizzazione di questa sperimentazione Taxi Amico, ma tutti i contributi derivano da una ricerca di fundraising che abbiamo fatto presso privati, quindi viene completamente sostenuta questa prima sperimentazione da fondi privati. Abbiamo fatto, facciamo questa sperimentazione, facendo una tariffa fissa, agevolata, e speriamo che possa interessare i giovani e che usufruiscano del nostro servizio. Un servizio volto anche proprio alla sicurezza dei ragazzi. Sì, speriamo di sì, speriamo che possa servire anche a questo, speriamo nel nostro piccolo che possa servire a risolvere una minissima parte di traffico. Se i ragazzi si organizzano, salgono in 4 sul taxi, spendendo 5 euro a testa, si vanno a divertire. Sara Pietracci per Ravenna Web TV